Conferenza stampa di Forza Italia. Al tavolo siedono il senatore Massimo Mallegni e l'onorevole Erika Mazzetti. Nella sede Fiorentina, insieme alle categorie del commercio, si parla di infrastrutture toscane. Serve uscire dall'isolamento, dicono i leader del partito. Ci sono dei cantieri in opera che non riguardano purtroppo soltanto l'area Fiorentina, ma riguardano tutto l'asse autostradale italiano. Ovviamente sull'asse autostradale Fiorentina ci sono inserimenti ulteriori, che sono quelli di interesse regionale, in particolare sulla Firenze-Pisa-Livorno e su anche una serie di direttrici a raggera che partono da queste viabilità. Queste viabilità sono costantemente interrotte perché non si è sfruttato, purtroppo, a nostro avviso, ed è quello che abbiamo proposto più volte anche nello scorso anno appena concluso, di poter operare e lavorare in sicurezza anche nell'anno della pandemia, essendo gli spazi all'aperto e la sicurezza per ovviamente il personale dipendente che poteva intervenire. Gli spostamenti su strada sono complicati, dice Mallegni, sia per le famiglie che si raccano nelle località turistiche, sia per gli scambi commerciali. In questa fase noi proponiamo che ci sia una messa in sicurezza rapida e immediata, ma che i cantieri, diciamo così, quelli non utilizzati... Grazie.